il cristianesimo amici non è una religione non è andare in chiesa solamente il cristianesimo è una forma sociale di vita questo è il cristianesimo Cristo non era un religioso Cristo è stato un grande riformatore che è venuto a mettere ordine in quel caos spaventoso che era l'Antico Testamento dove Dio ti mandava a scannare e poi ti diceva non uccidere era un po' strano sto Dio e poi Gesù ha messo le cose a posto ma vedete poi appena Gesù è andato via è ritornato tutto come prima come l'Antico Testamento c'è un Cristo che dice amatevi porgi l'altra guancia e poi c'è il Cristo della Chiesa il Cristo storico della Chiesa che dice andate a uccidere gli infedeli sterminate quelli che non credono ma era Cristo o è qualcun altro cioè c'è un Cristo che l'uomo fa a sua immagine e somiglianza alimentando il demonio per farsi gli affaracci suoi di potere e di dominio nell'Antico Testamento ci sono due dei uno si chiama Adonai che è il padre di Cristo un altro si chiama Javè che è quello che dice di stuprare di ammazzare di conquistare e quindi questi due dei sono un po' incompatibili quindi se noi amici non abbiamo le chiavi di lettura non ci capiamo nulla ecco quindi che una persona arrogantemente ah ma se loro sono superiori perché non ci salvano e tu chi sei per essere salvato? che hai fatto fino a oggi? niente e Dio ti ignora tanto sei eterno prima o poi capirai quindi se noi oggi non abbiamo, noi dico la società, non ha strumenti di analisi e di critica perché è ignorante è come uno che va al primo anno di università il professore apre bocca e dice ah ma io non la penso così ma scusa sei venuto per imparare? che vuoi? state zitto, ascolta la lezione, studia e poi vieni all'esame e lì sono io che vedo se tu sai, non tu se io so, è così che si fa invece siccome siamo manipolati appena arriva il ricercatore che parla di extraterrestri salza il furbo, il saputo, ah ma io stia che non ci salvano, ma studia prima